Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, io sono Monkey D.Andre ed oggi vado a fare un brevissimo video in cui vado a svelarvi qual è il nuovo personaggio extreme che uscirà ad agosto Ragazzi io non me ne ero accorto nel video speciale dei 100 milioni di download del gioco Alla fine se ascoltate c'è il suono dei tamburi che quasi sicuramente al 100% sono il suono dei tamburi della liberazione di Joy Boy Questo è un inizio devastante, stesso suono di tamburi che hanno messo nell'episodio 1070 dell'anime che è uscito adesso Ecco il video in questione, ve lo lascio un attimo Quindi è praticamente confermato che il nuovo personaggio che uscirà a extreme ad agosto è Luffy Gear Fifth Lo sto aspettando da quando l'ho visto nel manga e non vedo l'ora che esca Sto accumulando più gemme che posso per questo personaggio da mesi e mesi e non vedo l'ora che esca Basta volevo solo darvi questa bellissima notizia e niente Fatemi sapere la vostra se anche secondo voi uscirà Luffy G5 Lasciate un like a questo video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per rimanere aggiornati sui video che usciranno E seguitemi anche sulle mie pagine social che lascio qua sotto in descrizione Io ringrazio coloro che sono arrivati alla fine di questo brevissimo video e noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao